La maschera di ricerca del database Uffici Stampa e Marketing permette di effettuare la ricerca sia per organismo, che si apre in automatico, sia per persona. Quindi, in questo caso, abbinando una serie di parametri, otterremo direttamente le persone che li rispettano. Invece, nella ricerca per organismo, il risultato saranno tutte le strutture che rispettano questi parametri. Partiamo appunto da questa ricerca per organismo. Come possiamo leggere nelle brevi istruzioni che compaiono cliccando sull'apposito link, la ricerca darà risultati nei due casi. Innanzitutto, se noi andiamo a mettere tutta o parte del nome della struttura, ad esempio possiamo digitare nell'apposita casella di testo organismo, andiamo a digitare Piaggio, diamo ricerca e otterremo tutte le strutture all'interno del cui nome c'è la parola Piaggio. Quindi ci sarà l'Aprilia del gruppo Piaggio, ci sarà la formazione Piaggio, ci sarà la Piaggio Aereo Industri. Altra possibilità, se noi non conosciamo il nome della struttura che ci serve o comunque vogliamo tutte le strutture che rispettino alcuni parametri, possiamo scegliere i parametri Regione, Provincia e Settore, abbinarli per ottenere tutte le strutture che ci occorrono. Quindi, se noi stiamo cercando tutti gli organismi che operano nel settore della sanità, noi possiamo scegliere semplicemente il settore Sanità, Farmacia e Chimica, dare ricerca e otterremo appunto tutte le strutture pubbliche e private che hanno a che fare con la sanità, quindi ci saranno aziende che lavorano in questo settore, come anche ASL o aziende ospedaliere, e che hanno comunque all'interno qualcuno che si occupa di comunicazione. In questo caso possiamo ad esempio scegliere la prima, la 3M, avremo una scheda che riporta una serie di informazioni iniziali e poi i nominativi delle persone che lavorano all'interno dell'ufficio comunicazione. Per ognuna, ognuna avrà un suo rigo, avvicinando il cursore al simbolo della cornetta comparirà il telefono di fax, la bustina permetterà di inviare subito una mail, avremo poi l'indicazione di che carica ricopre quella persona all'interno dell'ufficio comunicazione e marketing e il simbolo UIS ci permetterà, se cliccato, di effettuare una ricerca su internet, la ricerca viene effettuata in partnership con 1,2,3 people e questa ricerca ci fornirà tutto quello che riguarda quella persona, sotto forma di foto, indirizzi mail, articoli che riguardano quella persona, eccetera, quindi avremo una panoramica su quella persona, eccetera, attraverso internet. Se questa o alcune di queste persone o tutte le persone che compaiono nella scheda ci interessano per la nostra mailing list, li potremo selezionare spuntando il cursore all'inizio e cliccando su inserisci selezionati. A questo punto le persone sono nella nostra lista e noi possiamo continuare la nostra ricerca. La ricerca può essere effettuata, come dicevamo, anche per persona e questo ci fornirà l'elenco delle persone che rispettano i parametri di cui abbiamo bisogno. Se noi stiamo cercando una persona in particolare di cui conosciamo il cognome, possiamo digitare nella casella di testo cognome quel cognome, ad esempio il panico, diamo il cerca e otterremo tutti i nominativi che hanno quel cognome, che lavorano all'interno di più città, quindi di marketing, di aziende, enti o agenzie. Ovviamente se una persona lavora su più fronti, in più strutture, come ad esempio Giancarlo Pernico, lo troveremo citato diverse volte. Altra possibilità di ricerca è, ad esempio, se noi stiamo cercando tutte le persone che lavorano come responsabili della comunicazione e dell'ufficio scampa all'interno di aziende o enti del settore sanitario nella regione Lombardia. Stiamo facendo un incrocio di diversi parametri. Potremmo scegliere una regione Lombardia, il settore come prima sanità, farmacia e chimica, il ruolo comunicazione e ufficio stampa, diamo il cerca, e otterremo appunto tutti i nominativi dei professionisti che si occupano di comunicazione ufficio stampa all'interno di enti o aziende del settore sanitario ubicate nella regione Lombardia. Anche in questo caso, le persone sono ovviamente inizie per struttura, noi sceglieremo quella o quelle persone che maggiormente ci interessano e alla fine della schermata andremo a dare l'istruzione di inserirli nella lista su cui stiamo lavorando. Una volta che abbiamo scelto tutte le persone che ci servono e abbiamo completato la nostra lista, abbiamo due possibilità. Possiamo decidere di cambiare lista o cambiare la database cliccando su Nuova Lista. Qui appunto in questa schermata potremo avere creare una nuova lista o sceglierne una che avevamo già creato in passato oppure possiamo decidere proprio di cambiare il database. Altra possibilità invece è quella di andare a lavorare le persone che abbiamo inserito nella nostra lista quando questa sarà completa cliccando su Vedi Lista avremo questa schermata dove potremo trovare tutte le persone che abbiamo scelto e che abbiamo inserito nella nostra lista e utilizzarle secondo le funzioni che metto a disposizione il software RP 2.0.